Gemitol, il tonico numero uno d'America, Gemitol, il tonico dal benefico rossore, vi invita la visione di una entusiasmante puntata di Marchette, il programma di telepromozioni culturali della Sette, la National Broadcasting Company che trasmette su rete nazionale. Accompagnato da un cast d'eccezione, tra poco, 70 minuti mozzafiato di Marchette. Il programma di marketing di prodotti, persone, idee, condotto dal vostro beniamino, Chiero Chiambretti. Grazie. Buonasera ladies and gentlemen, good evening e benvenuti a Marchette con la K. Papa! Grazie. Grazie.